L'inaugurazione della delegazione regionale del Tribunale Arbitrale per l'Impresa, il Lavoro e lo Sport a Torino. Anzitutto cos'è il Tribunale? Il Tribunale Arbitrale è un'opportunità che noi diamo agli imprenditori e comunque ai cittadini e agli sportivi di avvicinarsi alla giustizia in modo da avere una giustizia di prossimità al cittadino, cioè la possibilità di approcciare delle forme alternative di risoluzione delle controverse, in modo da ottenere una giustizia più rapida, sicuramente noi in un massimo di sei mesi mettiamo il Lodo Arbitrale e soprattutto più economica rispetto a quelle che sono le vie ordinarie. In che maniera lavora il Tribunale? Il Tribunale è un servizio che in realtà offriamo a completamento dell'associazione di imprese, del consorzio leader di cui facciamo parte e proponiamo alle imprese di aggiungere la clausola arbitrale all'interno dei contratti. Abbiamo una serie di convenzioni, di accordi, di partnership e cerchiamo di in realtà sollecitare proprio i cittadini, le imprese, i lavoratori, gli sportivi, persone del mondo dello spettacolo a utilizzare queste forme alternative di risoluzione delle controverse con una doppia finalità. Da un lato il vantaggio personale che è appunto quello di ottenere una giustizia in tempi minori e sicuramente con minore sborso, dall'altro quello di svuotare, quindi è una funzione sociale del nostro Tribunale, svuotare anche le aule di giustizia del Tribunale ordinario da tutte quelle che possono essere cause invece delegate appunto all'esterno. Lei è stato chiamato a presiedere dalla delegazione regionale del Tribunale, cosa significa? Significa che avremo la responsabilità all'interno dell'associazione di gestire il Tribunale arbitrale, di rappresentarlo in Piemonte, di aprire delle delegazioni anche a livello provinciale, a livello comunale e fare in modo che si diffonda questa cultura, questa cultura in realtà della giustizia di prossimità al cittadino, questa cultura sociale di promozione, soprattutto perché in Italia in realtà l'imprenditore, i lavoratori e gli sportivi tornino a fare il loro mestiere piuttosto che a litigare. Si parla come accennato di giustizia di prossimità, cosa si intende? Una giustizia vicina, prossima al cittadino, prossima alle imprese, prossima ai lavoratori, affinché in realtà possa essere una giustizia efficiente. Come è nato questo Tribunale? Nasce per ridare la certezza del diritto alle imprese e ai cittadini. Nasce perché le due peculiarità di questo Tribunale sono che c'è una commissione di giudici, di magistrati in servizio, di pace e tributari, quali scelgono il giudice arbitro per competenza, quindi garantendo che la persona che dovrà gestire la lite è una persona competente nel merito. Quindi è un Tribunale che vuole tornare ad essere vicino al cittadino per recuperare il senso di giustizia dei cittadini, dando un giudizio rapido, efficiente e soprattutto competente.